Grazie a tutti. Don Maurizio Palmieri che è vice direttore dell'ufficio liturgico della diocesi di Aversa e che ci sta tenendo compagnia con le sue esperienze di liturgista ma anche con il suo cuore sacerdotale in questi anni, possiamo dire già questi anni, questo è il terzo anno, bello, terzo anno. E si ha sempre più sete, Don Maurizio, si ha sempre più sete di sentirti e fame. E niente, è il terzo anno che sta con noi, che veramente ci accende sempre di più qualcosa di bello. Don Maurizio abbiamo il primo anno parlato della Santa Messa, tutti i passaggi eccetera eccetera, poi sarebbe lungo da dire. Poi l'anno scorso abbiamo fatto, l'anno scorso scusate, ma anche prima e seconda parte sulla liturgia eucaristica, diciamo le cose fatte per bene. E poi, dato che è l'anno della misericordia, ci siamo soffermati sulle parabole di San Luca della misericordia, facendo anche un ritiro insieme o due. Uno, un ritiro, ma sicuramente ne faremo un altro, tra poco a breve. Ne faremo sulla misericordia. Bellissimo, bellissimo. Ci fu il fatto dei Pullman, comunque, se vi ricordate. Adesso, quest'anno, però poi lascio la parola a lui, lui ci introdurrà il tema per quest'anno. Noi, fino al fine 2016, sarebbe novembre, ottobre, novembre, dicembre, faremo soltanto tre catechesi, solo tre. Per tanti motivi, che la parrocchia ha tanti impegni, tante attività. Poi cercheremo di capire, ecco, la modalità, i giorni, così, per l'anno venturo, per l'anno avvenire. E niente, ringraziamo il Signore che sta con noi, perché è sempre una grazia di Dio avere dei sacerdoti che ci possono aiutare nel nostro cammino. Specialmente, mi permetto di dire, Don Maurizio Palmieri. Facciamo un applauso, così, d'inizio. Questo è un applauso preventivo, chiaramente, ma al di là di quello che poi dirò, comunque l'applauso me lo prendo. Poi pazienza se alla fine non risponderò poi alle vostre esigenze. Allora iniziamo con la priglia. Ci alziamo in piedi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amo. Ispira, Signore, ogni nostra azione, perché ogni nostra attività abbia da Te il suo inizio e in Te il suo compimento. Per Cristo, nostro Signore. Amo. Maria, Madre della Chiesa. Per Cristo. Ci sediamo. Io sono molto contento di ritrovarmi per il terzo anno consecutivo insieme a voi. Di camminare con voi e anche di crescere con voi. La cosa bella è per un sacerdote, come per qualsiasi fedele, che si cresce e si cammina nella fede. Non è che dice, vabbè, sacerdote, così è arrivato. Oppure ho fatto il battesimo, ho fatto l'agresimo, la comunione e sono arrivato. Quindi su tutto non è modo più assoluto. Sarebbe la tentazione più grande questa, di mettere un punto poi nella nostra vita. Siamo sempre in formazione, siamo sempre le discepoli alla scuola di un unico maestro che è Cristo Gesù. Con Don Ernesto abbiamo pensato, quando Don Ernesto mi ha chiesto di nuovo di venire in mezzo a voi, ho detto, ma abbiamo finito la messa e l'equalistia, la liturgia, abbiamo parlato in lungo e largo. Due anni siamo fermati. Fin adesso in nessuna comunità per due anni ho parlato di un argomento, soprattutto quello dell'equalistia. Ho detto, quindi ho esaurito in pratica l'argomento. E ho detto, vediamo qualcosa. E abbiamo pensato di parlare del Vangelo di Matteo. Perché quest'anno, il nuovo anno liturgico che inizieremo a fine novembre, voi sapete che ogni anno noi leggiamo un Vangelo in modo particolare. Quest'anno abbiamo letto il Vangelo di Luca. L'anno prossimo leggeremo il Vangelo di Matteo. Tra due anni poi il Vangelo di Marco. Sapete che c'è il ciclo triennale, Matteo, Marco e Luca. Giovanni poi viene letto in tempi particolari. Allora ci siamo chiesti, giacché come comunità, la domenica, noi ascolteremo il Vangelo di Matteo, prendiamo in mano il Vangelo di Matteo. Quindi, giacché la parola di Dio è il tesoro che comunque il Signore ha affidato all'umanità, noi però diciamo la verità, sappiamo poco della parola di Dio. E allora abbiamo pensato così di studiare per quanto c'è possibile, o meglio, di metterci in ascolto del Signore. Già ve lo dissi quando mi ha fatto in estate con i quattro incontri sulla parola di Dio. Non sono esperto studioso della saga scrittura, non sono un biblista. Quindi mi metterò insieme a voi in ascolto della parola e cercherò per quanto mi sarà possibile di essere un eco di quella parola. Quindi mi lascerò con voi illuminare e parlare dal Signore e condividere con voi ciò che il Signore vorrà dirci attraverso l'azione dello Spirito Santo. Prima però di iniziare il Vangelo proprio, di prendere in mano il Vangelo di Matteo, che lo prenderemo proprio materialmente in mano, io vi invito poi dal prossimo incontro a portare o il Vangelo oppure la Bibbia, perché io penso che dovremmo toglierlo un poco dallo scaffale della libreria e prenderlo proprio in mano. E potrebbe essere bello quando veniamo agli incontri venire proprio con la Bibbia in mano. E vedete, noi vediamo i testimoniani di Geova, hanno la borsa e ci rendiamo conto che sono i testimoniani di Geova, gli evangelici hanno la Bibbia in mano. Noi generalmente non la teniamo in mano. Prendiamola in mano, portiamola in mano, iniziamo ad avere una familiarità anche proprio forse col contatto. Facciamo sì che la nostra mano possa toccare questo testo. Lo diremo tra poco. Questo è un testo vivo, qui c'è il fuoco. La nostra mano dovrebbe bruciarsi quando tocca questo libro. Diremo poi, non è un libro qualsiasi, chiaramente. Allora, dicevo, prima di iniziare, prendere proprio il testo di Matteo in mano, di fare un'introduzione generale, molto semplice, per quanto c'è possibile, proprio sulla Bibbia, su questo testo. Come tutte le introduzioni, è sempre un po' quella più pesante l'introduzione, perché purtroppo si devono dare delle nozioni. Vi ricordate quando parliamo del fondamento del nostro essere cristiani e diciamo che bisogna scavare, quindi quando bisogna scavare, sapete, è un'operazione non facile. E' perché quando scavi trovi i sassi, trovi le pietre, trovi spazzatura, tantissime cose. E quindi lo devi prima togliere sotto quello che c'è e poi far sì che i pilastri che tu metti sopra, poi possono leggere quella casa che si costruisce sopra. Quindi dobbiamo porre queste fondamenti. E quindi un po' di introduzione generale sulla scrittura in genere, poi la faremo sul Vangelo di Matteo e poi prenderemo proprio concretamente in mano il testo. La cosa che io vi consiglio però nel frattempo è quando torniamo a casa, siccome noi, sapete, il Vangelo di Matteo sono 28 capitoli, se per assurdo vogliamo fare un capitolo a incontro ci vorrebbero 28 incontri. Noi non faremo 28 incontri, non avremo questa possibilità. Quindi non potremo leggere insieme tutto il testo. Però è importante che noi questo testo lo leggiamo. Non so quanti di voi, ad esempio, i Vangeli li hanno letti tutti. Oppure hanno letto tutti il Vangelo di Matteo, di Marco, Luca o Giovanni. E allora, però, lo dobbiamo fare. Per la serietà della nostra fede dobbiamo veramente iniziare a rifarci a queste cose importanti per la nostra vita. Molte volte leggiamo tantissimi libri spirituali, anche il libro del Papa, il Papa ha scritto il libro, noi lo leggiamo anche con entusiasmo e con interesse. Però abbiamo cose che più importanti, con tutto il rispetto al Papa e a quei libri che possa scrivere, qualcosa di più importante rispetto al libro del Papa. E quindi dobbiamo conoscerlo. Quindi l'invito che vi faccio è comunque a casa di prendere in mano il Vangelo di Matteo e di iniziare a leggerlo. Quindi leggiamo poi il testo, in modo che a fine anno avremo letto il Vangelo di Matteo. Piacendo poi al Signore, l'anno prossimo vediamo se studieremo insieme il Vangelo poi di Marco. Vi ho dato un foglio, lo vedremo alla fine dell'incontro, perché su questo foglio vi ho messo in pratica le indicazioni per la lezione divina. La lezione divina in pratica è una pratica che fino adesso veniva riservata ai monaci, però non è solo una pratica dei monaci, è di ogni cristiano. In pratica la lezione divina, poi lo analizzeremo insieme, perciò dobbiamo fare il foglio, come leggere un testo sacro e farci una sorta di meditazione, contemplazione e un'azione su quel testo. Quindi sono delle indicazioni proprio pratiche di quando stiamo a casa, come rapportarci a questo testo. Un'altra cosa importante, io sono cresciuto anche io un poco, mi sono informatizzato, quest'anno anziché avere il foglio in mano avrò il computerino in mano e quindi leggerò un poco, anziché proiettare, come facevamo l'anno scorso, perché alcune cose, proprio perché abbiamo il foglio, non proietteremo. Qualche cosa, se ci sarà bisogno, poi faremo la proiezione, quindi sarà anche un poco sotto i nostri occhi più chiaro quello che poi cercherò di dire e le vedremo poi insieme. Allora, la prima cosa che mi preme di dirvi, quando noi, vedete, pensiamo al fatto che abbiamo la Bibbia, la parola di Dio, vedete, noi diciamo parola di Dio, quindi vuol dire che il Signore Dio parla. Provate a pensare per un attimo nel fatto che noi possiamo dire che il nostro Dio è un Dio che parla. È qualcosa di stupendo, di meraviglioso. Non è un Dio muto, è un Dio che parla. E tutta la scrittura, dalla prima pagina fino all'ultima pagina, è questo susseguirsi di questa parola di Dio e attraverso la parola Dio rivela il suo progetto. Attenzione, perché poi lo diremo, nella Bibbia, non è che noi andiamo a leggere Dio e ci dice lui come è fatto in se stesso, perché anche se noi sapessimo questo, la nostra vita non cambierebbe. La Bibbia ci dice le azioni, le azioni che Dio ha compiuto e compie a favore dell'uomo. Però, vero che Dio parla, però vedete, questa sua parola nella Bibbia direttamente non la teniamo mai. Perché chi parla a nome di Dio sono i profeti? Il Signore rivolse la sua parola tramite Mosè. Oracolo del Signore. Però chi parla concretamente è Mosè, è un profeta, è Osea, è Isaia. Però poi vado a pensare, poi a un certo punto questa rivelazione, questo fatto che Dio parla attraverso i profeti, poi a un certo punto questa parola di Dio non è più attraverso un profeta, ma è attraverso una persona che è la parola di Dio incarnandosi, facendosi uomo, Gesù di Nazareth. La pienezza è il culmine della rivelazione. Vi ricordate, maggiore di Giovanni, come leggiamo? Il verbo, la parola, si fa carne e vieni ad abitare in mezzo a noi. meraviglioso, stupendo. Noi molte volte il Signore non mi parla, il Signore così, il Signore ci parla. Ci ha detto e dato tutto. Solo che molte volte chiudiamo noi volutamente il nostro occhio, il nostro cuore, la nostra comprensione, la nostra mente, proprio perché noi vorremmo ascoltare altro. Fateci caso, anche tra di noi, quando noi parliamo tra di noi, non ci ascoltiamo quando la persona che ci sta parlando non sta dicendo quello che noi vorremmo sentirci dire. Quante volte noi interroghiamo qualcuno con la speranza che possa dirci quello che noi vorremmo sentirci dire? Quello non mi dice quello e quello poi non mi ha risposto. No, ti ha risposto, non quello che volevi tu. Ricordate qualche domenica fa nel Vangelo bussatevi, sarà aperto, cercate e troverete. E quante volte noi lo diciamo no, ma io chiedo e però non ottengo nulla. Attenzione, non otteniamo quello che vorremmo noi, ma il Signore è sempre fedele alle sue promesse, cioè lui ci dà tutto ciò che ci ha promesso di darci. Allora, scoprire che non è tanto quello che voglio io, ma quello che il Signore vuole donarmi. E attraverso la parola di Dio, attraverso anche la preghiera, noi in questo ci apriamo. La preghiera, vedete, io spesso faccio questo esempio, è come se fosse un grande quadro e capire qual è il mio posto in questo quadro. Non volerlo determinare prima, perché molte volte noi vogliamo scegliere noi il posto, noi invece il Signore ci fa capire in questo quadro che è la storia, la storia del mondo, la storia nella quale viviamo, qual è il posto che noi dovremmo occupare in questa storia, perché se stiamo qui ognuno ha una vocazione, se stiamo qui perché qualcuno di noi deve occupare un posto nella chiesa, nella realtà nella quale viviamo, nella società, in famiglia, e qual è il mio posto? Io lo posso cogliere, lo posso scoprire nella preghiera. La preghiera è quella realtà che mi mette nel mondo di Dio, vedete, perché io possa vedere il mondo così come lo vede Dio. Ricordate Dio come vede il mondo? Lo leggiamo nel libro della Genesi e Dio vide che era cosa buona. Il mondo uscito dalle mani di Dio è una cosa buona. come noi dobbiamo vedere il mondo, così come uscire dalle mani di Dio, come una cosa buona. Sì, ci sono delle cose che non vanno, ma guai a vedere solo quelle che non vanno, perché in questo mondo ci siamo noi a cui è rivolta la parola del Signore per essere la realtà bella di questo mondo di cui oggi gli altri hanno bisogno. La bellezza va vista, la bellezza del mondo, va vista attraverso coloro che incarnano quella parola per essere belli. non per presunzione. Noi come credenti siamo chiamati alla bellezza. Noi come credenti siamo chiamati ad essere belli, belli della bellezza del Signore. Iniziamo. Allora, noi quando mettiamo in mano il libro della Bibbia abbiamo in mano un libro che dobbiamo partire da considerazione che è un libro che è lontano da noi, nello spazio e nel tempo. è stato scritto rispetto a una cultura completamente diversa dalla nostra. Pensate che la prima storia che noi abbiamo nel libro della Bibbia è la storia di Abramo che lascia la sua terra e parte e stiamo a 1900 anni prima di Cristo Gesù. Quindi calcolate, noi stiamo adesso a 2000 anni dopo Gesù Cristo. Con Abramo stiamo a 1900 prima di Gesù Cristo, quindi stiamo a una distanza perlomeno di quasi 4000 anni. Quindi noi prendiamo in mano un testo che comunque racconta una storia di 4000 anni. Voi fateci caso, se noi leggiamo un testo di una storia di 10 anni fa è già sempre lontano. Soprattutto adesso con l'avvicendarsi dei tempi che noi viviamo, no? Quindi immaginate di 4000 anni e chiaramente la nostra comprensione rispetto a un testo di 4000 anni non è sempre facile. Noi dobbiamo tenere presente questa cosa quando leggiamo un testo perché molti come diciamo diciamo un testo non l'ho capito, è difficile, è vero, è così. Infatti abbiamo bisogno poi di aiuti per rapportarci a questo testo per cercare quando è possibile poi di comprenderlo. Perché un testo prima deve essere compreso in quello che vuole dire rifacendosi a quel tempo in cui è stato scritto. Poi posso anche dire ma a me questo testo ora che cosa vuole dire? allora ci sono sempre vari piani di letture quando noi dobbiamo accostarci al testo sacro della saga scrittura. Quindi questa difficoltà esiste però la dobbiamo tenere presente. Quindi tra noi e questo testo c'è una distanza. Anche la cultura è diversa. La cultura del Medio Oriente non è la nostra cultura. Quindi alcune volte noi abbiamo delle espressioni che noi non le capiamo perché non fanno parte della nostra cultura. voi immaginatevi una cosa se io nello scrivere una poesia scrivo una poesia partendo tenendo sotto i miei occhi il golfo di Napoli mare chiaro posillipo voi capite a cosa mi riferisco. Se io dico mi affaccio da sopra posillipo e ho davanti a me la collina voi capite io dove sono situato e che cosa ho davanti ai miei occhi il golfo di Napoli. Però se io questo lo descrivo a un milanese lui non capirà a cosa sto facendo riferimento. C'è bisogno che io o gli faccio una fotografia oppure devo esprimergli e spiegargli meglio il golfo di Napoli con la vittura poi di posillipo. Se voi mi dite la processione che fa della Madonna di Casandrino io non sono di Casandrino quindi non la capisco. Per voi può essere così semplice parlare di quella processione perché voi la vedete ma per chi non è di questa realtà non è facile capirla. Così noi abbiamo a che fare con un testo che non lo capiamo perché noi non siamo di quella cultura. Certe espressioni li voglio bene assai oppure permettetemi la dico in napoletano che altrimenti voi non renderebbero i tosang tra tutto in italiano gettare il sangue non è la stessa cosa versare il sangue in italiano così no si direbbe versare il sangue ma è diversa ai tosang capite? La sfumatura è diversa io ti voglio bene io ti amo è diversa la sfumatura stranamente dire io ti voglio ti voglio bene in napoletano è più rispetto a io ti amo in italiano e noi quando apriamo quel testo lì certe sfumature non le riusciamo a cogliere proprio perché è una mentalità diversa rispetto alla nostra qui stiamo in Medio Oriente insieme pensate alla Genesi quando descrive la creazione del mondo oppure la creazione poi dell'uomo e lì sapete chi la può capire le favolette di Alibaba e i 40 ladroni perché quello è ciò che chi sta scrivendo ha davanti ai suoi occhi il palazzo del gran visir il sultano quella è la mentalità e oppure quando si crea parla dei sette sei giorni della creazione la terra il cielo che viene steso che viene tirato come se fosse una sorta quasi una specie di coperta perché quella era la geografia che allora si conosceva quindi attenzione perché anche questo noi qui qua sopra qui dentro noi non abbiamo delle nozioni scientifiche perché la Bibbia non è scienza quindi dice ma quello allora la Bibbia dice così poi invece la storia dice l'altra cosa e attenzione che se noi vogliamo far dire alla Bibbia nozioni scientifiche quelle che noi conosciamo no non ci troviamo quindi sarebbe poi in contrapposizione oppure pensate una cosa quando dice ha creato prima il sole e poi ha creato la luna se effettivamente prima il sole o la luna è indifferente la nostra vita non cambia niente capite? però capire che Dio è creatore quello è importante perché lì che cosa dice nella Genesi che Dio è creatore prima una cosa e dopo un'altra la nostra vita non aggiunge e non toglie niente però quello che è fondamentale è che Lui è creatore e quindi questa realtà dobbiamo tenerle presente poi ancora noi subito ci rendiamo conto che quando apriamo la Bibbia vedete c'è una serie di libri in questo unico libro perché la Bibbia non è un solo libro ci sono tantissimi libri dentro sapete quanti libri ci sono nella Bibbia? è divisa gente in due parti sapete le due parti quali sono? Nuovo Testamento e Antico Testamento e sapete quanti libri compongono l'Antico Testamento e quanti Nuo Testamento? 47 e 26 poi cerchiamo di a meno di leggere stando a casa a meno i nomi di questi libri e li leggiamo quindi allora vuol dire che questo libro unico vedete ha una serie di libri all'interno e ogni libro uno è diverso da un altro e all'interno degli stessi libri comunque c'è una differenza perché vedete un conto è se leggo un libro di storia un conto è se leggo una favoletta un conto è se leggo una parabola un conto è se leggo un libro giallo questa realtà quando noi leggiamo il testo le dobbiamo sapere perché altrimenti sapete il rischio qual è? che noi appiattiamo tutto ed è tutto così e fateci caso pure quando andiamo a leggere durante la messa a proclamare la voce di Dio noi molte volte appiattiamo tutto perché non sappiamo distinguere se sto leggendo una pagina storica o sto leggendo una parabola perché voi capite io al bambino piccolo se gli leggo la favoletta che cosa dico? c'era un lupo cattivo e c'era cappuccetto rosso devo interpretare la bambina la favoletta invece dico c'era un lupo cattivo c'era cappuccetto rosso Biancaneve i sette nani il bambino della favoletta che gli sto dicendo non gli resta niente anzi dice ma quando finisce questo? perché sono monotono monotono così pure noi quando lo proclamiamo perché non ho questa consapevolezza però devo capire effettivamente a che libro mi sto rifacendo e quali sono quelle diversità che noi ci troviamo in questo libro quindi così la stessa cosa vi ricordate quando c'è il costo di liturgia noi dicemmo che c'è un primo lettore poi dovrebbe esserci un altro che legge il salmo invece se il primo lettore legge anche il salmo io faccio capire che prima lettura è la stessa cosa invece no il salmo è diverso rispetto alla prima lettura dal libro della sapienza è un libro sapienziale il salmo invece è una poesia è una forma poetica e quindi devo anche chi va a proclamare deve essere una voce diversa rispetto a chi ha proposto la prima lettura se è vero che il salmo è risposta alla prima lettura e quindi deve essere una voce diversa un modo diverso poi di poterla proclamare alla comunità e quindi come poi risposta a Dio la parola Bibbia significa raccolta di libri l'originale pensate significa papiro foglio rotolo libro testo dove appunto si scriveva poi sopra quindi Bibbia come foglio di papiro dove in realtà sulla quale si scrive poi dal latino arriva dalla Bibbia la raccolta appunto di questi libri che noi abbiamo quando noi ci accostiamo a questo testo dobbiamo tenere prima di tutto un dato che non dobbiamo mai dimenticare la fede senza fede la Bibbia non la si capisce o meglio senza fede noi la Bibbia la leggiamo come un libro qualsiasi è la fede che ci fa dire che questo libro è la parola di Dio un non credente questo libro lo può leggere lo stesso non incontrerà Dio il credente invece sa che qui il Signore ha parlato in questo libro e Dio lo incontra in questo libro questa è la fede l'incontro con Dio e quindi quando io mi appresto poi nel foglio lo troverete no la prima azione che devo fare è dovrei ricordarmi la fede dovrei avvicinarmi a questo testo con la fede la fede è dono di Dio se io per avere fede ho dovuto incontrare Dio è il primo luogo dove incontro Dio attraverso la sua parola o perché la leggo la incontro nel testo sacro o perché mi viene trasmessa perché poi lo diremo l'annuncio la catechesi è sempre annuncio della parola tra le persone abbiamo catechesi liturgia e carità perché la catechesi l'annuncio di Gesù Cristo è l'annuncio della parola che mi porta alla liturgia e dalla liturgia poi mi apre la dimensione della carità se non ci sono questi tre passaggi c'è qualcosa che non va nella nostra vita quindi per avere fede vuol dire che mi è stata annunciata la parola ripeto o perché io l'ho incontrato personalmente nella mia lettura personale e quindi è venuto incontro o perché ho ricevuto la catechesi l'annuncio e l'annuncio è sempre riferimento alla scrittura noi annunciamo ripetere San Paolo noi annunciamo Cristo Procifisso perché nasce il testo sacro pensiamo ad esempio al Nuovo Testamento i Vangeli nascono perché ci raccontano della morte e resurrezione di Gesù quello è il kerigma quello è l'annuncio infatti noi lo sapete ricordate ricordate il fondamento del nostro essere dici cristiani per noi uomini per la nostra salvezza discesse dal cielo quindi per salvarci quindi noi questo annunciamo i Vangeli nascono attorno a questo mistero pasquale Cristo morte e risorto poi dopo hanno ampliato tanto è vero uno studioso tedesco diceva che i Vangeli sono l'annuncio e la resurrezione con un'estesa introduzione i miracoli le parabole la vita iniziale di infanzia di Gesù ed è così quindi c'è questa introduzione molto grande estesa e poi si arriva alla parte centrale che la passione morte e risurrezione poi di Gesù Cristo quindi vi dicevo l'aspetto primo è questo qua della fede i musulmani forse già lo dissi quando parlavamo della Bibbia la parola di Dio lì due anni fa quando prendono in mano il Corano si lavano le mani proprio per il rispetto al testo sacro gli ebrei ad esempio il testo sacro ce l'hanno conservato anche nelle loro case comunque hanno segni di venerazione verso il testo sacro noi lo diciamo un poco così qualche volta riamiamo la Bibbia così e la buttiamo arriva a casa come piglio il giornale così e lo butto un poco sul tavolo è vero è cartone così però provate a pensare se la mia fidanzata mi scrive una lettera oppure scrive la lettera alla mia fidanzata è vero che adesso c'è il computer c'è internet c'è l'email il messaggino subito si fa però io ricordo una volta mi ricordo mio fratello che ha fatto il militare quando si era militare e allora si mandava la lettera e poi le lettere si conservavano e poi spesso la si andava a rileggere quella lettera e provate a pensare all'emozione quando quello poi rileggeva la lettera dell'amata caro Antonio ti amo tanto tanto e stando lontano quella lettera la ci va bene al cuore e sentivi presente quella persona e quindi l'amore per quella persona e l'amore di quella persona verso di te te la rendiva presente attraverso quello scritto dallo scritto diventava viva ciò che stava scritto là sopra provate a pensare se noi ci rapportassimo così al testo sacro diceva un padre della chiesa San Gregorio Magno non ricordo o San Gregorio Magno o San Dabrogio uno dei due che la Bibbia è una lettera d'amore che Dio ha scritto a ogni uomo e quindi sapete che lì il Signore mi ha scritto qualcosa e io vado a leggere quello che lì mi ha scritto è venuto per me capite cambia qualcosa poi nella mia vita quindi la Bibbia è un libro differente da tutti gli altri libri perché contiene la parola di Dio quindi là dentro c'è la parola di Dio e la parola di Dio è sempre una parola che dà vita e la parola di Dio è una parola che dà vita perché vedete a differenza delle nostre parole occidentali noi quando parliamo della parola ci rifacciamo a qualcosa di concettuale per noi le parole sono i pensieri allora io faccio un pensiero do corpo a quel pensiero e lo esprimo io mangio la mela è un pensiero e quindi è una parola e quindi nella nostra mente allora c'è adesso l'immagine di una persona che sta mangiando la mela la parola nel mondo ebraico e soprattutto la parola per Dio ha un atto significato perché in Dio la parola coincide con l'azione quello che Dio dice avviene Dio disse sia la luce e la luce fu Gesù disse ai dieci lebrosi andatevi a presentare a sacerdote e mentre andarono furono guariti quindi è una parola efficace produce quello che dice sempre il Signore quando parla quello che dice si realizza sempre sempre se io dico vicino a voi fuori piove non sta piovendo là fuori perché la mia parola non è efficace invece quella di Dio è una parola efficace quindi l'importanza di questo testo è perché appunto contiene questa parola di Dio e siccome se io mi rapporto a questa parola e leggo questa parola il Signore mi sta parlando vuol dire che produce la sua efficacia anche per me oggi che sto leggendo questo testo se lo sto leggendo però nell'ottica di fede se lo sto leggendo aprendomi a ciò che il Signore mi vuole dire e non a ciò ripeto che io voglio sentirmi dire perché il Signore non mi accontenta in questo caso qui quindi vuol dire che io al testo della scrittura posso approcciarmi secondo due aspetti uno secondo l'aspetto di fede un altro invece limitandomi al senso scritturistico letterale di quello che sta scritto e sapete quando noi ci fermiamo al senso letterale del testo possono succedere le catastrofi più enormi perché dal testo letterale nascono fuori i fondamentalismi ma sta scritto così e detto così un momento però sapete i testimoni dicono in modo particolare leggono la Bibbia così quindi sta scritto così e Dio ha creato dalla costola la Eva e così è stato e ha fatto rimo il sole e ha fatto rimo il sole allora io poi ho detto una volta nella Bibbia un salmo dice i fiumi battono le mani e le montagne danziano di gioia dissi vicino fammi vedere un fiume che batte le mani e dice ma lì poi è stato in un senso letterale è un senso spirituale allora quando vuoi tu è spirituale e quando non vuoi tu non è così allora attenzione a non leggere la Bibbia in senso proprio fondamentalista perché altrimenti succedono le guerre e noi le sappiamo basta apriamo la televisione e vediamo quante guerre ci sono per il fondamentalismo quindi ci accostiamo con gli occhi illuminati dalla fede per cogliere il senso profondo di questa verità chiaramente potreste dire voi come fate gli occhi miei illuminati dalla fede lo diremo su questo foglio invocando lo spirito santo ok adesso faccio un momento di lettura della Bibbia la prendo in mano e faccio no un momento c'è tutto un procedimento per fare questo allora se è un incontro con il signore vedete io all'incontro mi devo preparare se io questa sera devo incontrare la mia ragazza io mi devo preparare all'incontrare la mia ragazza non è che posso andare all'incontro e vado così se ci può essere anche un incontro improvviso imprevisto ma generalmente l'incontro lo si prepara e lo si prepara come? tutto con il silenzio poi si invoca lo spirito santo poi la consapevolezza di quello che sto per fare allora sì purtroppo noi siamo abituati da una cosa poi passiamo a un'altra e allora da casa passo alla messa dalla messa passo all'incontro dall'incontro passo al bar dal bar passo per quell'altra cosa è chiaro che poi non cogliamo niente è chiaro che in quegli incontri non riusciamo più a farli perché appunto ci manca la reparazione e il riconoscimento poi di quello che stiamo facendo chi ha fede incontra Gesù Cristo nelle scritture incontra l'amore di Cristo nelle scritture chi ha fede attenzione però perché non tutti riconoscono Gesù Cristo se vi ricordate quando Gesù stava in mezzo ai suoi c'era chi lo riconosceva come figlio di Dio ma anche chi l'ha riconosciuto come un indemoniato Gesù Cristo non tutti l'hanno seguito c'è anche chi l'ha rifiutato quindi non è un riconoscimento automatico ed è bello Gesù a un certo punto dice le mie pecore ascoltano la mia voce ed esse mi seguono quindi c'è la voce di Cristo nella scrittura e noi quella voce ascoltiamo per seguirlo senza quella voce noi non seguiremo lui seguiremo solo noi stessi le nostre idee la nostra mentalità ma non lui se lui non ci parla quindi il fine della saga scrittura è proprio questo non una conoscenza di Dio ma l'incontro amante con Dio la scrittura non per sapere qualcosa di Dio ma incontrarlo nell'amore dico una parola che non è forte però questa davanti a Dio noi andiamo troppo con la nostra intelligenza dovremo andare a Dio un poco di più con il cuore o se volete con la pancia con i sentimenti ricordatevi quando abbiamo fatto l'anno del ritiro sulla misericordia quello che prende qui perché se non andiamo con questo a Dio andiamo con la mente allora vorremmo capire come è possibile tre persone uguali distinte la Santissima Trinità l'essenza la divinità andiamo con il cuore davanti a Dio andiamo per vivere un atto d'amore con Dio o se volete andiamo a vivere un rapporto d'amore perché Gesù Cristo con noi questo ha vissuto secondo qualche padre della Chiesa quando noi leggiamo nel Maggio di Giovanni che dice in latino in italiano dice chi nato il capo e mise lo spirito tutto è compiuto in latino si dice consumatum est voi sapete quando due persone si sposano e hanno l'atto d'amore come si dice che hanno consumato il matrimonio quindi Gesù consumatum est ha consumato sulla cruce il rapporto d'amore di matrimonio di donazione con la Chiesa con noi noi siamo la sposa di Cristo quindi questo atto di amore lo dobbiamo vivere con Gesù Cristo e nella scrittura noi questo il fine è questo incontrare e vivere quest'atto di amore con Gesù Cristo come sempre le cose da dire sono tante il tempo è sempre poco va bene qui finiamo qui e andiamo al foglio che abbiamo in mano perché poi come concretamente dobbiamo avvicinarci il testo sacro allora siccome avete il foglio in mano io leggo sapete che ho il difetto di essere veloce quando parlo quindi leggerò velocemente perché tanto avete il foglio sott'occhio ripeterò alcune cose che già ho detto prima qui però le potete anche poi le tenete con voi a casa la scrittura è un messaggio di Dio all'uomo ad ogni uomo va letta e accostata nella fede come parola che viene da Dio e a Dio conduce oggi c'è una certa sterilità della parola perché ci accostiamo ad essa in modo più intellettuale che sapienziale la scrittura è il luogo nel quale Dio ha fissato la parola da lui detta ed è il luogo dal quale egli continua ancora oggi a parlare dobbiamo accostarci per stipulare l'alleanza l'alleanza lo sapete è il patto quindi Dio ha fatto con il suo popolo un patto ricordatevi con Mosè con gli ebrei con Israele però questo patto lo vuole fare anche con noi sei d'accordo? e noi dobbiamo dire o sì o no e noi dobbiamo dire se siamo d'accordo o non siamo d'accordo non possiamo essere ci mettiamo in mezzo indifferente non ci esprimiamo no dobbiamo esprimerci o dentro o fuori nel libro dell'Avocalisse c'è questa espressione sei diventato tiepido non sei né caldo né freddo e dice il Signore io sto per vomitarti dalla mia bocca Dio non sopporta i tiepidi o sì o no se la parola si riceve senza preparazione senza fede senza amore senza conoscenza essa non vi figa più resta per noi la parola morta essa o diventa colloquio con Dio o resta infruttuosa se la leggo nella fede e la prego Dio diventa un tu attenzione perché il tu dice che ci sono io il tu dice che ci sono io se non c'è il tu io non c'è io non ci sono Adam ed Eva e Adamo quando vede Eva dice sì tu sei Eva perché io sono Adamo quindi io scopro di essere io se ho un tu davanti a me che è diverso da me se non c'è il tu non ci sono neanche io perché io non so chi sono se non c'è l'altro il termine lezio rinvia ad una lettura di un testo scritto lezio divina rinvia ad una lettura fatta sul testo della strada scrittura la Bibbia ma questa la semplice lettura non è il fine di quello che noi vogliamo fare la lezio divina è un pellegrinare alla ricerca del volto dell'amato al di là di ogni immagine sensibile nel fondo del cuore nel silenzio più perfetto quindi la lezio divina è un camminare per ricercare il volto dell'amato il traguardo che vogliamo raggiungere con la lezia è la pienezza del verbo verbo qui con la V maiuscolo quindi Gesù Cristo il metodo della lezio è una via pratica e semplice di vita spirituale una volta che non ha preso il metodo via pratica e semplice perché è fondata sulla parola di Dio è una pratica non solo dei monaci ma interessa ogni cristiano tutta la chiesa perché la parola di Dio è per tutti attenzione per cui la parola di Dio è per tutti non ci sono gli esperti ci sono gli studiosi sì e loro possiamo approfondire quello che loro dicono possiamo i testi che ci danno però non è solo per gli esperti è per tutti la parola di Dio è il momento del confronto personalità e Dio lo scopo ultimo della lezione divina è vivere la vita come prolungamento della parola ascoltata interiorizzata e pregata facendo continuo riferimento nella reazione della giornata alla presenza di Dio quindi vuol dire che quella parola che io leggo che medito incontro cerco di far miglia affinché poi durante la mia giornata io possa essere con la mia vita il prolungamento di quella parola quindi io possa essere con le mie azioni ciò che è stato Gesù Cristo tant'è vero perciò sono cristiano perché sono colui che con la sua vita continua ma Cristo sono un prolungamento di Cristo e lo posso essere solo se lo conosco e lo conosco attraverso la parola in pratica la lezione divina consiste nella lettura di un testo biblico alla luce dello Spirito Santo in modo che la parola letta meditata e accolta in noi diventi preghiera e trasformi la vita attenzione c'è una successione una parola letta meditata e accolta perché prima la devo leggere poi la medito e poi l'accolgo diventi preghiera e trasformi la mia vita il fine della lezione è portarci alla preghiera e alla contemplazione tanti modi di leggere la saga scrittura ma bisogna sempre tenere presente un presupposto fondamentale la fede come dicevo prima nella scrittura abbiamo un organismo vivente una persona che ci interpella l'autore della lettera agli ebrei ci ricorda proprio la vitalità di l'amismo della parola infatti la parola di Dio è viva efficace e più tagliente di una spada a doppio taglio essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito delle giunture e delle medulle esclude i sentimenti e i pensieri del cuore un attimo solo la seconda lettura di oggi San Paolo è tra gli Efesini diceva così sopportandovi a vicenda abbiate in voi pazienza ammitezza sopportandovi a vicenda voi provate a immaginare sia in questo momento io vivo un momento di conflitto con una persona e leggo questa parola e faccio lezio divina e credo che il Signore mi sta parlando e lì il Signore mi dice sopportandovi a vicenda meglio che la persona la manderebbe a quel paese e invece mi dice sopportandovi a vicenda allora lì diventa viva efficace una spada a doppio taglio che penetra una posizione eppure Gesù qui mi dice che devo sopportarla allora che cosa devo fare solo il mio pensiero la devo sopportare vabbè poi dopo la sopporto no siccome deve andare a fare parola concreta la devo sopportare devo avvicinarmi a quelle persone ho il pensiero negativo deve scomparire della mia vita perché anche meglio allora non avrò incontrato il Signore perché se l'avrò incontrato Gesù che cosa mi dice va e fa lo stesso se lo scopo è essere il prognamento della parola è necessario alla conoscenza di questa parola come i nostri rapporti umani abbiamo conoscenza piena unendoci all'altro così la strada maestra per comprendere la scrittura è la conformazione ad essa come la conformazione a Cristo lei per la sua conoscenza cioè in pratica io per dirti di conoscere come lo posso dire perché ci frequentiamo e te quello è il mio amico ma come fai a diventare il mio amico perché ci frequentiamo ci vediamo ci va a fare una passeggiata andiamo a mangiare insieme però se a questo non lo vedo mai come faccio a dire che è il mio amico quindi la conoscenza è proprio da frequentarsi così a livello umano così anche con il Signore io lo potrò conoscere se lo frequenterò tant'è vero diceva San Girolamo che l'ignoranza delle scritture è ignoranza di Gesù Cristo se io ignoro le scritture io ignoro pure Gesù Cristo perché le scritture ne parlano di Gesù Cristo ricordati i tuoi discepoli di Emmaus stolti e tardi di cuore nel chiedere alla parola dei profeti non bisognava che Cristo sopportasse queste cose per entrare nella parola del Padre i presupposti per la lezione divina la fede accostandoci alla scrittura non bisogna mai dimenticare che è un testo sacro non un testo qualunque la Bibbia è ispirata da Dio vuol dire che quelli che hanno scritto la Bibbia l'hanno scritto sotto l'ispirazione dello Spirito Santo andiamo sotto confrontarsi Bibbia ispirata quando la geografo cioè l'autore sacro scrive lo Spirito Santo lo garantisce da non scrivere errori riguardanti la fede stessa attenzione a questa frase quando l'autore sacro scrive lo Spirito Santo lo assiste da non scrivere errori riguardanti la fede stessa quindi la Bibbia non ha errori di fede non ha errori di medicina ma significa che anche lo Spirito Santo è contenuto nelle scritture come sotto i veli del pane e del vino è presente realmente il Signore Risorto così il monaco è convinto che sotto i veli delle scritture sante è presente lo Spirito Santo voi immaginatevi ricordate noi sappiamo che Padre manda il tuo Spirito affinché il pane e il vino viene in corpo e il sangue di Cristo quindi lo Spirito fa la transustanziazione vi ricordate pensate lo stesso Spirito da qua dentro e noi quando abbiamo questo testo c'è lo Spirito lo Spirito Santo confrontarsi con le scritture significa lasciarsi illuminare la luce dello Spirito Santo che le ha ispirate ed è presente in essa tutti gli atti libri anche quelli scritti dal Papa o dai nostri Santi non possono essere messi alla pari con il libro delle scritture ancora l'atto per supposto per accostarci allo stesso sacro l'unità dei tuoi testamenti in pratica l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento sono una storia vedete molte volte noi diciamo l'Antico Testamento è più difficile leggo direttamente i Vangeli e attenzione perché come Cristo stesso ci ha rivelato bisogna partire sempre dall'Antico Testamento l'Antico Testamento non è qualcosa di secondario di accessorio se sta lì vuol dire che ha una funzione particolare Gesù stesso rivelato proprio con dicevo di Emos cominciando da Mosè profeti e salmi spiegò ciò che si riferiva a lui infatti nel Vangelo di Matteo noi leggeremo continuamente dice Matteo sta scritto sta scritto affinché si compisse che fa riferimento a ciò che sta scritto nell'Antico Testamento mi è molto l'altro esempio quando Gesù chiede agli apostoli la gente chi dice che io sia ma voi chi dite che io sia quando parlano del profeta parlano del Messia noi dobbiamo sapere nell'Antico Testamento Messia che cosa fa riferimento perché per comprendere Messia dobbiamo capire lì oppure Gesù figlio di Davide perché figlio di Davide dobbiamo capire chi è Davide e chiaramente devo farmi l'Antico Testamento per comprendere questo e poi non lo comprendo e quante volte noi abbiamo durante la Messa dei Vangeli certe espressioni come dicevo prima non le comprendo perché non conosco il retro terra che c'è nell'Antico Testamento quindi i due testamenti sono tenuti insieme Antico e il Nuovo Testamento dovete sapere che nella storia della Chiesa c'è stata un'eresia dove a un certo punto è stato eliminato l'Antico Testamento i Vangeli alcuni sono stati eliminati e è stata fatta una storia attraverso i quattro Vangeli cercando di costruire solo una storia di Gesù eliminando le cose più difficili ma non si fa così noi ai nostri ragazzi lo insegniamo la cosa più difficile è vero che è difficile ma è quella che poi ti permette poi di essere felice non è che la cosa difficile non la facciamo noi al bambino che non riesce a fare un problema e noi ci mettiamo vicino dai coraggio cerchiamo di spiegarglielo il passaggio che è difficile ma glielo dobbiamo spiegare però altrimenti poi non lo capisce ancora presupposto quindi fede l'unità dei testamenti la comunione con la Chiesa perché questo testo non è dato a me a Maurizio è dato a una comunità e nell'Antico Testamento ricordate lo leggemo con Mosè il Signore parla comunità e disse e ha dato la parola alla comunità non a Mosè quindi la Bibbia che noi abbiamo nella Sacra Scrittura è alla comunità non al singolo altro presupposto la confessione continua e dobbiamo sapere che noi siamo chiamati a confessione continuamente nessuno di noi è santo è arrivato siamo continuamente chiamati a convertirci l'altro presupposto invocare lo Spirito Santo quindi i presupposti sono questi la fede i due testamenti che sono tenuti insieme comunione con la Chiesa è un testo che ha tutta la Chiesa sono chiamati a confessione continuamente e deve invocare lo Spirito Santo giriamo no non dobbiamo girare niente perché la campana ha detto che sono le nove posso continuare sì allora continuiamo un altro pochino allora torniamo a pagina 3 dove stiamo prima concretamente adesso andiamo sulla movidezza primo atteggiamento chiedere che lo Spirito di Dio venga ad illuminare tutto il nostro essere affinché sia possibile un incontro con il Signore allora mi metto davanti al testo entro in camera devo iniziare questo momento di incontro con il Signore Signore manda il tuo Spirito fa che io possa incontrarti una preghiera qui poi personale se devo dire la mia ragazza che la amo non è che c'è un testo è il cuore che parte allora qui Signore aiutami di incontrarti manda il tuo Spirito fa sì che ti possa cogliere le profondità e quindi qui c'è una preghiera poi personale si chiede lo Spirito una certezza che ci venga dato la scrittura diventa parola feconda solo se lo Spirito anima chi la legge la venuta dello Spirito preparato con la preghiera e la docilità produce il distacco occorre questo distacco da noi stessi ciò che ci viene chiesto nel dialogo misterioso con Dio è di essere innanzitutto uditori attenti attraverso l'udito la parola di Cristo entra nella mente attraverso l'ascolto entra nel cuore una domanda vi faccio una domanda da mille dollari secondo voi la Madonna noi sappiamo che la Madonna non ha avuto nessun rapporto no? perché come ha generato il figlio Gesù? attraverso quale organo? non ho capito no non è una cosa sentimentale è una cosa concreta proprio no 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 con l'orecchio con l'orecchio con l'orecchio perché se la parola non entra qui non entra qui se io mi sto zitto e voglio comunicarvi qualcosa per comunicarvela la devo dire con la bocca è diventata nel vostro orecchio l'angelo portò l'annuncio a Maria non gliel'ha portato nel cuore nell'orecchio e ha concepito per opera dello Spirito Santo capite come è importante l'ascolto? il verbo più importante per il credente è ascoltare detto l'onimo 4.6 ascolta Israele il Signore è il tuo Dio il Signore è uno solo e quando c'è la trasfigurazione sul monte gli apostoli è bello vogliono vedere e poi scompare tutto la voce del Padre dice ascoltatelo noi purtroppo siamo abituati a parlare pure nelle celebrazioni vedete quando parliamo e non ascoltiamo dovremmo ritornare ad essere una comunità più che ascolta parla Signore il tuo servo ti ascolta e sarebbe bello immaginatevi un incontro di preghiera un incontro di ascolto a me quanto piace quando si entra in chiesa prima della messa e c'è il silenzio mi dà fastidio molte volte quando c'è il rosario o meglio il rosario c'è poi a un certo punto finiamo finisce il rosario al giaculatoria l'Angelus Domini e quell'altra preghiera e quell'altra cosa e poi suona la campanella noi cantiamo quella da te e usciamo per la messa è questo distacco che tu qui quando si fa quando la smetto di dire qualcosa per predispormi ad ascoltare qualcosa diceva un detto noi abbiamo due orecchi e una bocca due orecchi perché dovremmo ascoltare meglio una bocca per parlare meno ma questo lo dico a voi ma lo dico a me abbiamo paura del silenzio abbiamo paura di lasciarci leggere dentro forse allora dicevo la parola entra attraverso l'udito San Paolo dice sta cosa è terribile di San Paolo come faranno a salvarsi se non c'è qualcuno che annunci e qui capite anche la nostra responsabilità di essere annunciatori chiaramente per essere annunciatori ho prima dovuto ascoltare per poterlo poi annunciare che cosa do all'altro se è prima di non ricevere e qui ringrazio Don Ernesto per la sensibilità che tira nei confronti della comunità per fare questi incontri per permetterci questa possibilità fateci caso quando un cattolico passa e diventa testimone di Geola certo potete dire che diventa un esperto della Bibbia a parte solo di quei passi che stanno loro poi ti avvicini e dice scusa ma perché quando eri cattolico questo non lo facevi è perché in parrocchia questo non ce l'hanno mai fatto e tu l'hai mai chiesto ma lasciamo stare perché è vero in parrocchia non ce l'hanno mai fatto questo incontro con la scrittura ci viene effetto questa possibilità accogliamola quindi attraverso l'udito la parola entra nella mente attraverso l'ascolto entra nel cuore la lettura richiede un tempo determinato occorre che ognuno eserciti un asceso sul tempo per trovare un tempo specifico e adatto quindi una condizione essenziale della fedeltà come io so che oggi alle 20 venivo qui io dovrei sapere che domani alle 15 ho l'incontro con il Signore mia mamma vede la coloncina di Vena Misericordia che fa alle 3 su TV 2000 e allora lei sa che alle 3 si vede la congina di Misericordia quindi l'ha programmato nella sua vita di vedere salita e la congina di Misericordia io ho programmato nella mia vita che a quell'ora particolare dedico l'incontro alla parola del Signore per la lettura ci vuole tempo e un tempo adatto nella notte all'alba al tramonto comunque in tempi che favoriscono la calma il silenzio e l'assoluto se pensate ai monaci generalmente iniziano ma perché si azionano così presto al mattino perché quello è il mattino per loro tengono il tempo favorevole per dedicare all'ascolto della parola del Signore io sono cappellano alle storie di grosura e qualche volta da casa mia sento la campana che suona la loro alle 5 suona la campana alle 5 del mattino e le 5 del mattino già iniziano noi potremmo dire magari niente da fare non è vero niente da fare vuol dire che c'è qualcosa di importante e per cui quel fatto di svegliarsi presto per dedicarsi poi all'ascolto dove tutti intorno a te ancora tace e tu veramente anche l'ambiente esterno ti aiuta perché ci vuole anche l'ambiente esterno perché se io decido di fare silenzio ma intorno a me di là c'è la radio accesa la televisione accesa è chiaro comunque influenzerà non mi permetterà poi di creare quel silenzio che vorrei poi creare nella mia vita in determinate ore bisogna dedicare il proprio tempo a una determinata lettura una lettura occasionale varia e rinvenuta quasi per caso non edifica ma rende l'animo instabile alla lezio divina non possono essere riservati i ritagli di tempo essa come la preghiera non può essere mai il riempitivo della giornata non tengo niente da fare ma dico in un rosario non tengo niente da fare ma dico in un rosario ma dico in un lezio divino no non è un riempitivo perché non ho altro da fare proprio perché ho altro da fare faccio anche la lezio divina ricordate no vi portai quell'esempio di quel sacerdote e durante un ritiro di sacerdoti allora lui parlava il vescovo parlava che è l'importanza di fare un'ora di meditazione al giorno sacerdote giovani sanzioni io tengo i ragazzi vado a scuola insegno poi tengo la messa la mattina mi alza presto così non riesco a fare un'ora di meditazione e il vescovo gli dice hai ragione devi fare due ore di meditazione al giorno per quello che fai due ore perché più fai più hai bisogno di ricentrarti in te stesso fateci caso anche noi più facciamo più arriviamo a fine giornata che siamo proprio così esausti si sentiamo vuoti molte volte perché non abbiamo il tempo della meditazione non ci dobbiamo un attimo via a meditare a riflettere siamo diventati un magazzino caotico dove mettiamo 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 nel nostro cuore mettiamo mettiamo cioè non abbiamo più le esperienze dentro di noi non avendo non le sappiamo neanche più raccontare o condividere con gli altri perché i nostri nonni ci raccontavano quante cose avevano da raccontarci di esperienze vissute perché le vivevano quelle esperienze noi saremmo in grado di raccontare le esperienze siano stagli altri e che cose ci raccontiamo delle tante cose che facciamo senza avere neanche noi stessi ripeto il tempo di averle fatte nostre stiamo facendo una cosa e ne facciamo un'altra finiamo quella e subito arriva quell'altra accostare le scritture nella fede significa essere anche pronte ad ascoltare un messaggio difficile esigente un messaggio che può sembrare prima vista incapace di riguardarmi il testo può anche non dirmi niente ma il colloquio di amicizia non è fatto solo di parole anche di silenzi che possono essere eloquenti perché dicono addio alla nostra pochezza di fronte alla sua pienezza che si mostra a noi nella sua parola quante volte se mi pure hanno detto a me capita no questo testo mi sembra così arido cioè non riesco a trovare qualcosa che il signore mi voglia dire però poi effettivamente anche qui anche il fatto che non ho niente da dire perché l'amico molte volte gli amici non hanno sempre qualcosa da dirsi però il fatto di stare insieme c'è quello importante anche il silenzio parla e Dio molte volte ci parla proprio nel silenzio pensate ad esempio per dire un silenzio quello proprio particolare il silenzio del padre quando Gesù sta in cruce Gesù sta in cruce pensate a quel silenzio lì dice il padre l'ha abbandonato no il padre non l'ha abbandonato ma gli sta parlando nel silenzio e noi lo sappiamo quante volte il silenzio dice più di molte parole un'altra caristica è l'assiduità la continuità è richiesta perché si oppone alla dissipazione aiuta ad assimilare a raccogliere a memorizzare a concentrare la parola occorre leggere e rileggere la scrittura affinché i peni di spirito e corpo del credente vari gradini per arrivare a questa conoscenza e poi alla contemplazione il primo dato viene dalla materialità del testo la scrittura è un libro con dei segni con dei significati quindi un senso letterale che è alla base una convinzione profonda senza dubbio è la scrittura e la voce di Gesù Cristo le parole scritte nella Bibbia sono le parole d'amore che lo sposo Cristo scambia con la sua sposa la Chiesa l'ascolto della scrittura mira coinvolgeci fino alle profondità delle nostre viscere perché a noi esse sono dirette come può essere attuato l'ascolto della scrittura nel silenzio e nella solitudine unico spazio in cui il disfiglio della scrittura può essere percepibile libro della sapienza questo lo ascoltiamo la notte di Natale mentre un profondo silenzio avvolgeva tutte le cose la notte era a metà del suo corso la tua parola onnipotente signore dal cielo dal tuo trono regale si lancia in mezzo a quella terra di sterminio tutta la creazione assumeva da capo nel suo genere nuova forma terra di sterminio arriva la parola la cellula del profondità della notte e tutta la creazione di nuovo acquisto una nuova forma San Benedetto nella regola prescrive un tempo determinato abbastanza lungo dedicare giornalmente alla lezione divina le scritture stesse man mano che diventano familiari eduono al silenzio in tre ore ora che potesse dire ma questo per i monaci va bene per noi no e su cui abbiamo ragione chiaramente noi non possiamo stare su un testo un'ora due ore come sta un monaco perché effettivamente ho la famiglia ho il lavoro queste cose le devo fare per effettivamente mi rendere conto io stesso del tempo che dovrò usare per questo momento se è vero che dovrò ritagliare durante la giornata questo tempo cercherò anche un tempo che per me è favorevole è chiaro se alle otto devo andare a lavorare non posso farlo alle otto meno un quarto se alle otto devo andare a lavorare poi devo anche fare colazione allora lo farò casomai nel pomeriggio però tutto sta vedete dall'interesse che c'è se ho interesse a farlo lo faccio se ho interesse a farlo troverò mille giustificazioni per non farlo allora i passaggi primo invoco lo spirito santo prima di leggere invoco lo spirito santo ti illumini scendente e ti faccio comprendere nella fede secondo leggi la parola di Dio leggi 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 con calma e con attenzione parti dalla consapevolezza che nel leggere la parola sagra stai per ascoltare qualcuno la persona viva che ti parla è Gesù leggere e rileggere più volte quel brano che mi rongo leggere e rileggere anche ad alta voce sottolineando la parola la frase che più mi colpisce mettere in risalto le parti importanti del brano l'ambiente il contesto storico i personaggi i sentimenti le immagini i verbi i passi paralleli e testi che si richiamano quindi in pratica la prima parte è proprio quella materiale cioè il testo davanti a me quel testo lo leggo tantissime volte cerco di cogliere le frasi più importanti cerco di cogliere una frase che più mi colpisce che più mi guardate può essere anche un verbo può essere anche una parola e ricordate quando abbiamo visto la peccatrice e il fatto che si sorse i capelli o Matteo Pubblicano che si alza dal tavolo del banco delle imposte cioè fino a un certo punto leggo e rileggo quasi a immaginarmi anche la scena facendomola viva davanti ai miei occhi diceva San D'Ignazio di Doiola la commozione del luogo cioè io vedo dovrei a un certo punto vedere il luogo lì davanti a me e io mi devo vedere quasi in un angolino lì mi trovo anch'io in quel luogo pensate ad esempio leggiamo la scena del Natale la Natività e mi trovo anch'io lì mentre i pastori stanno andando i remaggi vanno e cerco di trovarmi anch'io e mettermi in quella fila quindi leggo rileggo tantissime volte quindi qui non devo andare di fretta proprio con calma la Bibbia è un libro in cui e su cui stare e lavorare senza fretta Giuliano allora invoco lo spirito leggo terzo punto medito dopo la lettura attenta prolungata e ripetuta la tappa successiva è la meditazione meditare riflettere sui valori permanenti del testo cercare il sapore della parola ruminare la parola cercando di calarla dentro in un impegno di interiorità e concentrazione chiudere gli occhi davanti al Signore e confrontare il testo con la realità quindi ho letto ho riletto ho cercato di cogliere vari passaggi di cogliere una parola particolare adesso che faccio anche fisicamente mentre fino adesso gli occhi erano sul testo adesso chiudo gli occhi quella parola è la mia vita quella parola la confronto con la mia vita allora come dicevo prima se vi ho una situazione particolare vedrai quella parola come fa uscire fuori quella situazione particolare se ho letto con attenzione illuminerà rischiarerà certamente un angolo della mia vita che forse io tenevo in ombra e lo rischiara e lo viene fuori la meditazione è la riflessione sulla parola ascoltata o letta per fare emergere il valore masticarla a lungo in un confronto personale con la vita parola che così facendo non si rumina soltanto durante la lezione ma anche durante la giornata facendolo risuonare dentro di sé e spezzando nella qualità delle azioni quindi in pratica quella parola che ho riletto riletto nel momento in cui la medito con la mia vita durante il resto della giornata vedrai quante volte ritorna e in certe situazioni vedrai come io poi risponderò con quella parola che è risuonata dentro di me durante poi la meditazione alto punto invoco lo spirito leggo medito prego orazio quando la meditazione della parola di Dio è ben fatta come a suo sbocco naturale la preghiera alta tappa nel cammino della lezione pregare e rispondere a Dio dopo averlo ascoltato se io ho letto e quindi Dio mi ha parlato io ho confrontato con la mia vita io gli rispondo a Dio la risposta a Dio è la preghiera quindi preghiera non è che io gli dico qualcosa ma che rispondo a ciò che lui mi ha detto lui mi ha parlato nel testo e in base a quello che con la meditazione ho capito che lui mi ha detto gli rispondo allora esempio mettete la banalità devo riconciliarmi con quella persona adesso io devo medito devo riconciliarmi con Giuseppe adesso diventa preghiera Signore dammi la tua grazia aiutami perché affinché con Giuseppe possa riconciliarmi tu sai le mie difficoltà però tu mi hai detto che mi sei vicino nel testo me l'hai detto in questo momento e siccome la tua parola è vera aiutami a fare i passi Orazio giro dietro azione allora si è detto di fare i passi devo uscire di casa devo andare incontro a Giuseppe devo fare pure il passo concreto altrimenti è un'illusione quello che ho fatto fino adesso e quindi invoco lo spirito leggo medito prego passo poi all'azione concreta e quindi vedete che la parola di Dio non è più un libro morto ma diventa propria realtà concreta nella nostra vita quotidiana ogni giorno abbiamo finito bene ringraziamo il Signore è venuto il desiderio di adesso andare a casa e stare a mezzanotte l'una le due e meditare e contemplare la parola ecco mi veniva in mente Don Maurizio lo dico sempre perché mi piace quello che diceva tu hai parlato che la parola non si deve solo vivere qua ma si deve vivere con il cuore sempre Sant'Ignazio mi viene sempre non è questione solo di sapere ma di assaporare no e allora davvero c'è il desiderio di sembra quasi voler adesso andare a prendere la Bibbia e trovarsi proprio un po' così o no ha visto e allora significa che è stata efficace ringraziamo Don Maurizio davvero perché ci apre il cuore ci vediamo il 24 novembre per tanti motivi un po' per lui un po' per noi così ci sono delle difficoltà abbiamo il patrocino è tutto così e continuiamo questa porta che abbiamo aperto poi ci saranno ci saranno altri incontri a dicembre che non ricordo vabbè poi lo diremo man mano e poi vediamo un po' l'anno prossimo anche secondo Maurizio adesso lo diciamo solo così stabiliremo un giorno un giorno così ecco lui si è messo a disposizione dire un giorno poi vedremo un po' anche col consiglio pastorale di cercare di far rientrare se vi ricordate abbiamo dato un accenno al consiglio pastorale un giorno preciso faccio un esempio solo per capirci l'ultimo venerdì di ogni mese o l'ultimo giovedì o l'ultimo martedì lo vediamo così che sappiamo che c'è Don Maurizio no 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 è un esempio è un esempio solo un esempio per farci capire quello l'ultimo venerdì di ogni mese così proprio per anche noi sapere al di là di dire le date a meno che Don Maurizio o noi c'è un qualcosa di urgente o di un impegno a livello diocesano anche per Don Maurizio così e allora ringraziamo il Signore e ci mettiamo in piedi com'è bello per noi stare qua faremo tre tende ma diciamo una una facciamo così la Madonna un Ave Maria e la Madonna e poi la benedizione Ave Maria il Signore sia con voi e benedica Dio Onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo andiamo in pace Santa notte a tutti grazie Grazie a tutti.